Puglia e Basilicata fanno gioco di squadra contro il nucleare. Un'alleanza antiscorie confermata nel corso di una videoconferenza alla quale hanno preso parte ieri pomeriggio i presidenti delle due regioni, Michele Emiliano e Vito Bardi, assieme ai rispettivi assessori dell'ambiente, Anna Grazia Maraschio e Gianni Rosa. Si è trattato di un primo incontro operativo organizzato per cominciare a concordare una strategia comune e definire tutti i rilievi da sottoporre al governo per scongiurare la localizzazione dei rifiuti nucleari nei territori pugliesi e locani, così come riportato sulla mappa pubblicata la scorsa settimana dalla Società Gestione Impianti Nucleari della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee. Nel documento, come è noto, sono stati indicati 67 siti italiani adatti ad ospitare un deposito nazionale di scorie nucleari. Tra questi ce ne sono quattro tra Puglia e Basilicata, Gravina, Altamura, La Terza e Matera. Ma le due regioni non ci stanno e un po' come sta avvenendo nelle altre zone interessate, è già scattata la mobilitazione per impedire l'arrivo delle scorie in siti giudicati assolutamente inidonei, poiché vicini ad aree naturali. Territori, concordano entrambi i presidenti, connessi dal punto di vista geologico e naturalistico. Sappiamo bene di avere di fronte per ora solo un elenco potenziale, hanno dichiarato Emiliano e Bardi, ma intendiamo tirarci fuori da questo elenco perché quelle pugliesi e lucane sono tutte aree di particolare pregio naturalistico, che fanno parte di parchi o che sono candidati a farne parte. Il governatore pugliese ha anche annunciato che nei prossimi giorni la Giunta regionale approverà una delibera di indirizzo per rendere più esplicite le azioni e le forze da mettere in campo, di concerto con la regione basilicata. Le osservazioni dovranno essere presentate al governo entro 60 giorni dalla pubblicazione della carta dei siti potenzialmente idonei, e cioè entro il 6 marzo 2021.